Il 2017 inizia per Dacia con il segno più, a conferma che la crescita del marchio rimane costante. Dacia non passa di moda, tutt'altro. E per rafforzare ulteriormente i successi ottenuti, oggi svela i suoi nuovi assi nella manica. Tante le novità di prodotto che culminano nella nuova serie speciale trasversale Brave, la nuova Logan MCV Stepway, la fase 2 di Docker e Loggi e la trasmissione automatica a doppia frizione EDC su Duster. Tutto questo con nuova veste Brave. Grazie alle sue caratteristiche di robustezza e affidabilità, la nuova gamma Dacia Brave consente di affrontare tutti gli ostacoli della vita quotidiana. Un'anima robusta e affidabile grazie al suo look crossover, agli interni qualitativi e alla tecnologia di ultimo grido. Le Dacia Brave adottano la livrea esclusiva grigio islanda, associata a cerchi da 16 pollici dedicati e un look decisamente crossover, con ski, altezza da terra aumentata, protezioni laterali e tanto altro. L'interno mostra tanta vivacità e qualità, i sedili sono rifiniti con impunture color rame, con ricamo Stepway o Duster a secondo della vettura, nella stessa tinta, colorazioni riprese anche per i dettagli della console centrale e delle bocchette di aerazione. E per viaggiare in completa serenità, l'allestimento include navigatore integrato nel sistema media Nav Evolution, retrocamera, clima, volante soft fill, vetri elettrici anteriori e posteriori e cruise control. Il massimo di equipaggiamento e design al minimo prezzo, un aumento di soli 100 euro rispetto alla versione di riferimento Stepway per Docker, Logi, Sandero e Logan MCV per un valore prodotto addizionale di 600 euro, un beneficio per i clienti di 500 euro e solo 1.100 euro in più rispetto alla versione Laureate di Duster per un valore prodotto addizionale di 2.100 euro. Questo è un valore per i clienti di 1.000 euro. Una serie trasversale che federa il rinnovamento completo della gamma Dacia. La gamma Stepway si completa con l'arrivo della nuova Logan MCV Stepway che con la sua personalità ispirata ai codici stilistici dei crossover ne adotta le caratteristiche e gli elementi di design specifici senza rinunciare all'abitabilità e alla funzionalità tipiche di Logan MCV. Tutto questo al miglior prezzo sul mercato. Sportiva e grintosa, Dacia Duster è il SUV ideale per chi ama percorrere i sentieri poco battuti ma grazie al suo look da avventuriera si adatta perfettamente anche ai contesti urbani. Per andare incontro alle esigenze dei suoi clienti che cercano una guida efficiente, confortevole e reattiva Duster propone il cambio EDC sul motore diesel 1.5 DCI da 110 cavalli disponibile per la versione Laureate oltre che sulla serie speciale Brave. Ed infine la fase 2 che ha riscosso un grande successo su Sandero inizio 2017 arriva anche sul resto della gamma, su Docker e Loggi. Tante novità che saranno riprese nella serie trasversale Brave rafforzando ulteriormente il valore del marchio. Dacia Brave la risposta giusta per non rinunciare alle proprie passioni. Ah ну, ah. Ah, ah 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 ah. Ah ah ah. Ah 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 ahoh.